Sono Serena Ruffatto, sono CEO e co-founder di Tututeco, un'azienda che si occupa di tecnologie inclusive per non vedenti e povedenti. Una startup innovativa che è nata come idea nel 2012 all'interno del Master in Architettura Digitale di Venezia, come mi attesi del Master. In quel momento stavo analizzando le tecniche di stampa 3D e di modellazione 3D e volevo trovare un'applicazione per queste nuove tecnologie che fosse veramente in grado di cambiare la vita delle persone. Mi sono affacciata appunto al mondo della disabilità visiva con dei modelli tridimensionali tattili per non vedenti che potessero essere repliche di opere d'arte, potessero dare delle informazioni unitattili e quindi delle immagini mentali ai non vedenti e poter appunto vedere ciò che non potrebbero vedere. Ho preparato appunto questo modello tridimensionale stampato con stampa 3D e al momento di inserire delle informazioni per spiegare al non vedente cosa stesse toccando è sorto un problema, ovvero in quel momento la tecnologia che veniva utilizzata era il braille, in quel momento ho scoperto che il braille è un alfabeto e non una lingua e che quindi andava tradotto occupava moltissimo spazio e abbiamo pensato insieme al mio allora relatore di tesi Fabio Dagnano di associare semplicemente al tocco un'informazione audio, una cosa di per sé banale che pensavamo qualcuno già l'avesse fatto. In realtà nessuno l'aveva fatto quindi abbiamo cominciato a indagare su questa tecnologia e alla fine della mia tesi ho prodotto appunto questo modello parlante che era in grado appunto di associare al tocco della mano un'informazione audio. Con questo prodotto ci siamo presentati al primo concorso per startup, il concorso si chiamava Changemaker for Expo Milano, bandito da Telecom e da una società di incubazione di impresa che si chiama Avanzi di Milano e siamo stati selezionati con altre nove startup in questo percorso di accelerazione e incubazione di tre mesi. Qui abbiamo imparato un mondo completamente ignoto per noi che è appunto quello delle startup. Abbiamo imparato a costruire un business plan, abbiamo cominciato a capire come presentare la nostra idea a un investitore, a costruire il primo pitch, a dare un'immagine grafica coordinata alla nostra startup e a rendere l'impresa e anche l'idea più solida. Questi tre mesi di impresa appunto ci sono serviti per costruire quello che era l'involucro di questa nuova idea per poi poter continuare negli anni successivi e indagare sulla tecnologia. Una tecnologia che con il passare degli anni è cambiata in maniera radicale soprattutto per l'analisi che abbiamo fatto e i test che abbiamo fatto con i non vedenti. Ci siamo accorti che ciò che funziona per noi vedenti non è quello che funziona per loro, viceversa molto spesso quello che funziona per un disabile funziona benissimo per noi e abbiamo appunto cambiato la prospettiva dalla quale guardiamo la nostra ricerca e ci siamo messi nei panni loro, anzi abbiamo chiamato proprio loro a indagare insieme a noi nella nostra tecnologia. Abbiamo cominciato a collaborare con l'Istituto di Ciechi di Milano e all'interno del team abbiamo inserito una ragazza non vedente che ci aiuta appunto in questo, cioè tradurre i contenuti digitali in contenuti poi tattili e audio per non vedenti. Abbiamo analizzato i nostri modelli e la nostra tecnologia non solo con Demora ma con altri moltissimi tester e la difficoltà principale che abbiamo appunto dovuto affrontare è la questione tecnologica e non solo dal punto di vista di sviluppo ma anche dal punto di vista umano, cioè abbiamo dovuto renderci conto che la tecnologia doveva essere cambiata e probabilmente andava cambiata passo passo che la veniva testata. Quindi nel corso di questi tre anni la difficoltà maggiore è stata quella di mettersi in gioco, mettere in gioco non solo l'idea di fondo quindi tutto quanto l'idea di business ma anche la tecnologia cambiandola continuamente, cercandola, testandola e ricambiandola un'altra volta se le cose non funzionavano fino ad arrivare poi ad un prodotto accettabile, nel senso attualmente abbiamo un prodotto, il primo prototipo che presenteremo alla Rapacis ma sicuramente abbiamo già in cantiere delle modifiche che faremo e che stiamo già facendo per il prodotto 2.0. Lo UOV in questo ci è servito in tante cose, secondo me in particolare nella capacità di mettere insieme competenze differenti. Ovviamente il master è stato il salto di qualità perché mi ha dato degli strumenti che prima non esistevano nel panorama dello UOV, cioè quelli della modellazione tridimensionale, della stampa 3D, scansioni 3D eccetera, ma anche la capacità personale di poter lavorare in team che è una cosa fondamentale e soprattutto di cogliere le competenze delle altre persone per metterle insieme e creare rete e appunto un team in grado di risolvere problemi. Il consiglio che do ai ragazzi che cominceranno appunto a intraprendere questo percorso di impresa è quello di innamorarsi della propria idea perché senza un'idea e senza la ferma convinzione che quest'idea funzioni non si va da nessuna parte, ma al contempo di non aver paura di chiedere consigli, di chiedere aiuto, di chiedere semplicemente di provare le cose ad altre persone cominciando dai propri familiari, i propri amici e accettare i consigli, accettare le critiche e prenderle per creare qualcosa di nuovo e costruttivo che poi è quello che abbiamo fatto noi insieme a Deborah e insieme agli altri 9 denti quando ci dicevano a me questa cosa non serve assolutamente, quindi abbiamo dovuto ricominciare da zero, però è questo secondo me il valore aggiunto di un'idea, di un team che lavora su un'idea. Dopo il concorso Changemaker for Expo Milano ci siamo presentati ad altri concorsi e abbiamo vinto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Abbiamo fatto un altro percorso di accelerazione di impresa a Berlino presso iFocus Accelerator, siamo stati premiati e selezionati da Team V-Cup, un acceleratore di impresa di Telecom qui in Italia a Bologna per altri tre mesi e ultimamente l'anno scorso abbiamo vinto Edison Pulse, un premio piuttosto prestigioso perché ci ha dato un finanziamento di 65 mila euro a fondo perduto che abbiamo investito appunto in ricerca e sviluppo per i nostri prototipi e recentissimamente, cioè due mesi fa, siamo stati selezionati insieme a altre nove start-up italiane per rappresentare l'Italia a un concorso internazionale che si chiama Startup Europe Award a Bruxelles il prossimo marzo. Grazie per la visione!